Dopo la protesta del 15 maggio davanti a Montecitori, i sindaci tornano a Roma. Conferenza stampa oggi alla Camera dei Deputati in una sorta di chiamata raccolta per scongiurare l'aumento del pedaggio autostradale nei tratti della 24 e della 25 gestiti dalla Società Strada dei Parchi per una corsa contro il tempo, contro la data limite del 30 giugno che vedrà l'asticella del pedaggio autostradale di nuovo scattare verso l'alto. Alla Camera dei Deputati questa mattina una delegazione di sindaci e di amministratori dei territori attraversati dall'autostrada, le rappresentanze degli autotrasportatori di Abruzzo e Lazio, i sindaci e i governatori delle due regioni, i consiglieri regionali e i parlamentari. Invitato naturalmente anche il ministro all'infrastrutture Danilo Toninelli, chiuso in un mutismo impenetrabile da nove mesi. Dopo il decreto interministeriale di sospensione dell'aumento del pedaggio autostradale che ha fatto seguito alla precedente interruzione dell'aumento voluta dalla società concessionaria, nessun altro atto in grado di scongiurare il rincaro temuto è stato sinora messo a punto dal Governo e dal Ministero dei Trasporti. Il 15 maggio i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il caro pedaggi e per la sicurezza della 24 e 25 da oltre un anno e mezzo, hanno per l'ennesima volta alzato la voce contro il rischio rincari, un salasso altissimo per i territori attraversati dall'autostrada sottolineato anche questa mattina. Per questo sindaci e amministratori chiedono ai parlamentari e ai rappresentanti regionali di impegnarsi in prima persona nella battaglia a fianco a loro. In conferenza stampa gli amministratori si sono detti per l'ennesima volta decisi a continuare la loro battaglia per ottenere la risoluzione definitiva di tutti i problemi legati al tratto autostradale. A dare sostegno ai sindaci ha anche confartigianato Abruzzo alcuni parlamentari, tra cui la deputata Dem Stefania Pezzopane. Nei giorni scorsi intanto al Tribunale di Avezzano si è tenuta la prima udienza della causa promossa da 50 cittadini contro strada dei parchi. L'azione civile d'iniziativa popolare ha l'obiettivo di far dichiarare l'inadempimento del concessionario rispetto all'obbligo di garantire agli utenti le condizioni di sicurezza della circolazione sui tratti autostradali gestiti.